Più a Valle si trova uno dei luoghi più amati e frequentati da coloro che sull'Arzino ci vengono ogni estate da quando sono nati. Siamo sotto la Passerella che unisce le due sponde del torrente e le province di Udine e Pordenone. Superate la zona industriale di Casiacco, l'Arzino scorre sotto il ponte dell'Armistizio e si avvicina lentamente alla Fuce. Lungo il cammino ha perso in parte la sua irruenza, ma non certo la sua magia. E quando le sue acque si confondono con quelle del Tagliamento, all'altezza del ponte di Pinzano, l'unico desiderio è quello di cominciare un nuovo viaggio.